Questo film è stato originato dal fatto che io volevo fare il film sulla vita di Gualtiero Marchesi. Immaginavo che sarebbe stato difficile convincerlo, invece quasi è lui che ha convinto me, perché il suo entusiasmo è stato così dilagante fino a un momento che ci siamo immediatamente trovati sul fare, quindi abbiamo immaginato insieme, lui ha preso subito la tangente ed è volato nella costruzione del film con me, quindi è stato in realtà molto semplice. L'idea di questo film nasce su una struttura di sceneggiatura in cui all'inizio immaginavamo di fare un backstage che raccontasse una storia. Nel corso d'opera poi questo ci siamo resi conto che non ci piaceva tanto, ma è rimasta la mia figura, perché il senso originale di questo lavoro è il senso di una persona, cioè il sottoscritto, che per passione ha deciso di fare questa operazione. Passione per il cibo e la cucina, passione per il cinema e passione per la passione di Gualtiero Marchesi.